Musica Con Rudy Valentino, tutta la produzione, l'energia, siamo contenti di essere a testa del Cina europeo in quanto è un festival in cui siamo tutti affezionati Ho la fortuna e anche l'onore di interpretare Rudolfo Valentino in questo film di Cicirasola, Rudy Valentino Spero di essere riuscito ad onorare la sua figura e ad aver raccontato anche qualcosa di più universale, di più grande che può essere appunto il ritorno alle origini Io ho visto tantissimi film che non ho miso a nessun'altra parte in questi anni Inoltre a presentare i film, mi piacerebbe andare a Cine a vedere i film A presto! 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 Grazie a tutti.